Angel, prendi il senso e ascolta la notte. Riconosci il canto dell'angelo? Angel! La sua voce è il suono del tramonto. Le sue parole è una preghiera oscura che nessuno ha il coraggio di murmurare. Angel! Avvicinati fino a spiorare l'angelo. Il suo bacio ti consegnerà una notte senza sogni, che non avrà mai fine. Angel, terza stagione inedita. Doppio appuntamento ogni lunedì alle 21 su Fox. Doppio appuntamento ogni lunedì alle 21 suoi.